Assessore Salvatore Quirino, quello che stiamo inquadrando è il risultato dell'opera di pulizia realizzato dai volontari, soprattutto dal gruppo scout, per una giornata, la seconda dedicata alla pulizia delle pinete. Due giorni, domenica 10 e sabato 16 aprile, per pulire le pinete. Il risultato è stato 300 sacconi pieni di rifiuti di ogni genere e paradossalmente non sono nemmeno bastati. E' il risultato di questa incomiabile iniziativa che i ragazzi hanno portato a termine. L'inciviltà è il tanta, ma le forze positive di questa città sono di gran lunga superiore. Quindi siamo qui a testimoniare quale sia il grado di inciviltà di coloro i quali che frequentano le pinete. Ma con altrettanta convinzione posso dire che coloro i quali che vogliono queste pinete pulite sono di gran lunga un numero superiore. Quindi in qualche modo un messaggio di speranza che viene da questi ragazzi. Ovviamente adesso però è importante anche un'opera di prevenzione. Sicuramente un messaggio di speranza. Sicuramente da queste giornate nasce una maggiore consapevolezza di quello che è il ruolo delle istituzioni volte a prevenire questi scempi. Quindi indubbiamente come amministrazione mi farò promotore di un'iniziativa insieme con le forze dell'ordine volte a prevenire altre situazioni che possono degenerare in questi scenari. Anche oggi impegnati nella pulizia delle pinete. Voi avete già ricevuto un riconoscimento dall'amministrazione. Oggi una giornata impegnativa nella zona di Cappella Bianchini e non solo. Sì oggi è stata veramente dura perché qui in via Boccea come si è visto dalle foto che abbiamo fatto la settimana scorsa c'era proprio una distesa di spazzatura mai vista in nessun altro luogo. Quindi ci siamo dati da fare tutti quanti e veramente siamo riusciti a pulire questa zona. Non ce l'aspettavamo nemmeno. Quindi siamo molto contenti di quello che siamo riusciti a fare oggi. Ovviamente la vostra attività non si fermerà a queste giornate. Continueremo in altre giornate avendo un po' di tempo a disposizione perché comunque le zone sporche ce ne sono tantissime e cercheremo anche di fare un po' di prevenzione affinché chi sfrutta queste pinete per il loro divertimento abbia un po' più di coscienza ambientalista e non sporchi come ha fatto fino ad oggi. Il vostro gruppo scout ha voluto queste due giornate domenica scorsa e poi questa iniziativa tra Cappella Bianchini e via Boccea. Ma come avete trovato le pinete di Torre del Greco? Le pinete erano in un stato veramente indecente. Diciamo noi abbiamo cercato di muoverci prima che venisse Pasquetto. Infatti sul nostro gruppo che comunque è seguito da moltissime persone su Facebook abbiamo cercato di sensibilizzare comunque tutti quanti a non sporcare queste pinete ma nonostante l'avvertimento abbiamo trovato una situazione davvero disastrosa. Ecco perché comunque abbiamo cercato e voluto fortemente l'aiuto del Comune quindi sponsorizzando comunque l'iniziativa con il suo patrocino morale. Poi contemporaneamente a questa cosa ci siamo accorti che anche Francesca, un'altra ragazza che si è spesa molto in questa iniziativa aveva pensato di fare lo stesso tipo di attività. Quindi comunque abbiamo cercato di unire le forze e fare un unico evento che raggruppasse il maggior numero di persone possibile. Ecco allora che domenica scorsa siamo stati nella zona di via Pisani e via Resina Nuova. Inutile dire che le pinete erano sporchissime. Abbiamo riempito in poche ore più di 100 sacconi di spazzatura. Quest'oggi invece ci troviamo qui a via Boccea e anche qui la situazione era davvero indecente. Proprio dall'esperienza che avevamo avuto domenica scorsa ci siamo fatti dare 200 sacconi e comunque li abbiamo finiti tutti. Quindi insomma lascio immaginare qui come era davvero la situazione. Chiaramente questa nostra azione non vuole essere una soluzione definitiva a questo problema. Noi vogliamo lanciare un messaggio alla popolazione, vogliamo lanciare un messaggio a tutti quanti che comunque in questa città che comunque ha grossissime problematiche ci sono ancora delle persone, dei ragazzi volenterosi di fare del bene e fare del bene per il nostro territorio. Quindi tutte le persone che magari hanno questo stesso spirito non si devono sentire sole. Noi vogliamo lanciare questo messaggio a tutti quanti e sicuramente per il futuro richiediamo sicuramente una collaborazione più forte da parte dell'istituzione e del comune che comunque dopo l'iniziativa di questi giorni noi siamo sicurissimi che ci sarà. Un gran numero di partecipanti, un gran numero soprattutto di ragazzi e questo forse è il dato più importante che emerge da questi due giorni. Sì è bellissimo vedere tantissimi ragazzi che partecipano nonostante non siano ancora maggiorenni quindi sono davvero molto piccoli e in realtà il nostro obiettivo è proprio quello di coinvolgere il maggior numero possibile di ragazzi in quanto in realtà l'indifferenza è proprio questo l'unico problema che ci porta a danneggiare così tanto questo posto, l'ambiente in generale. Quindi il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani e magari sperare che i giovani possano in qualche modo aiutare anche gli adulti a non sporcare più. Certo, anche gli adulti però devono contribuire all'insegnamento ai ragazzi, soprattutto nelle scuole. Speriamo che questa non sia l'ultima volta, vogliamo ricreare l'evento per rivederci, per anticipare danni del genere, quindi sicuramente anzi non sarà l'ultima volta.